Io sono Gabri Costa e vi farò vedere il primo livello della modalità labirinto dell'area Casa dei Divertimenti del gioco Pac-Man World Repac. Dobbiamo raccogliere 101 pac-pallini. Non so quanto ci metteremo, ma noi ci proviamo. Quando raccogliete quel pallino grosso, Pac-Man diventa grosso e mangia i fantasmi blu. Abbiamo finito. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto condividetelo. Ciao a tutti. Da Gabri Costa.